Siamo Anna e Giulia Serra e siamo cresciute in Paideia e come parola che rappresenta Paideia abbiamo scelto squadra. Squadra perché per noi Paideia vuole essere sempre tutti insieme, condividere esperienze, emozioni, ricordi e tanti divertimenti tra di noi volontari, ma soprattutto con tutti i bambini e le loro famiglie. Grazie.